Matteo Castellani, tre punti importanti per la giallo-blu filline che sotto il punto di vista del gioco comunque aveva fatto buone prestazioni, però mancava solo il gol e i tre punti e adesso sono arrivati. Sì esatto, era una partita dove ci serviva la vittoria non solo per risalire in classifica ma soprattutto per l'umore, sono state settimane difficili perché comunque sono state due sconfitte di fila tra Baldaccio e San Giustino dove comunque anche gli episodi ci hanno un po' condannato. Un Castellani che è il centro del campo insieme a Donati adesso fanno una bella coppia insieme agli altri compagni e adesso il centro del campo alla giallo-blu filline è totalmente al completo. Sì, ci manca ancora il recupero di Giannini, comunque sì stiamo lavorando abbastanza bene. Gara contro la Castelnovese in trasferta a Luca Quercioli, sicuramente una trasferta difficile però adesso la giallo-blu filline va con un morale un po' più alto. Sì esatto, loro oltretutto appunto è una grande squadra che ultimamente sta avendo difficoltà ad avere risultati però insomma i nomi sono giocatori importanti quindi penso non bisogna guardare la classifica del momento. Un giallo-blu filline come arriva dal punto di vista fisico e dal punto di vista atletico in buone condizioni, forse adesso anche il carico della preparazione è sceso. Sì esatto, stiamo sentendo fisicamente in crescita quasi tutti, è stata una preparazione dura quindi speriamo di raccogliere i frutti.